qua è un po' un disastro no, stai giù, non andare in alto qua eh, meno male qua c'è la volpina teniamo questo come via di lì? no, qua ma smettila non ti dico là sul bordo ma qua ci stiamo dai smettila qua, precisi è certo che se va giù, va giù no, qua Marco questo qua, dai lì non vedi neanche il coso? fa niente ma smettila no, no di qua ci diamo qui ci sta la larga di lì vediamo qua qua ti do ragione che passiamo sopra qua eh figaro però qua è veramente pieno di roba e qua c'è l'altro burrone che non si vede niente ok quindi dobbiamo girare qui per forza stando alti qua allora siamo arrivati da qua sotto giriamo intorno a quelle piante qua e torniamo indietro tu pulisci quello lì dopo l'anellino qua lo facciamo dopo va bene va bene va bene qua va bene noi siamo arrivati da là giusto facciamo l'anello e giriamo indietro qua bravo questo va bene l'unico problema sai cos'è i rovi qua che d'estate non passiamo più perché qua non passiamo più dove vuoi passare? qui così ah tu l'hai chiusa ok io l'ho largata là va bene esatto allora aspetta però diciamo che questa se la buttiamo di là non sarebbe mica male e ciao ok ma qua va che sarà lunga qua è lunga e poi è tutto rovi ma no qui in mezzo i rovi ci passi eh sì ci passi ci passi un cacchio adesso ci passi sì ci passi fra un mese non passi più dentro qua problema ma niente giù lì c'è uno lo togliamo e uno solo tiriamo via questo lo lasciamo giù e va bene questo non possiamo è perché facciamo il sentiero vedi che c'è dentro quindi tagliamolo questo no aspetta c'è in tasca la cosa aspetta Marco stiamo così ok 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 Grazie a tutti.